Hola a tutti ragazzi, bene, finalmente sono ritornato. Allora ragazzi, volevo scusarmi per questa mancanza, no. Non mi viene la parola. Scusatemi per questa assenza e cercherò di essere più costante. Oggi ripartiremo con un nuovo video. E niente, vi lascio il video. Vabbè niente, cominciamo. Dai, 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 dai. Come avevo detto, vi faccio vedere per forza sfortuna, ragazzi. Partita rapida. Ah, comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete. La cici mia, la cici, la cici. Soprovviverò. Tum tum. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. No. Perché sono solo? Ah, ah, cici, cacca. Dai. Sperando che sia la volta buona. Dai. Ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Che ansia. Fossa? Shhh. Dai. Mio Dio. Ok. Ok. Ok, hai ragione. Hai semplicemente ragione. Allora, nel primo video sul venerdì mi è andata di culo, ragazzi. Perché c'è stato Gino, il nostro Gino, che ci ha salvato. No, non è stato Gino, è stata un'altra, giusto? Sì. Ah, ok. Allora. Prendiamo. Non mi ricordo come si chiama. Ah, beh, quello. Allora. Sì. Es... Sii... Oh Dios, n'è usato! Jason è vivo! Por favor, aiuti! Tommy Jarvis ho chiamato... Yes! Yes! No dove vai? Chiudi! Ok... Ma qualche altra cosa! Un'altra cosa dai! Ma è una porta in me l'ho chiuso! Un coltellino pure! andiamo a visitare un altro ragazzo chiudice la benzina mannaggia devi chiudere devi chiudere quando entri la radio ancora non ho capito come si dice giudo non apri lei non c'è scherzando andiamo a vedere dove stava la benzina giusto però se scappo lui mi sente io sappia perché chiusa mamma mi sa che non ho controllato non ci starà niente ragazzi che ansia mamma ma secondo me mi sta sentendo pure mamma chi è yes dai mi aiutami pure tu no ok andiamo alla macchina su ti seguo follow you aspettami però ok andiamo via bravissimo andiamo andiamo dai su più dai 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 così ci sente però sai ci sente così scappiamo prego dimmi che hai le chiavi ti scongiuro ma pure la batteria manca bene no no secondo me è vicino ma aiuto è un'ansia con questo gioco ragazzi grazie abbassiamo un poco po' va andiamo su la batteria sta qui giusto quindi posso aiutare che tengo le bombe uh bugi tengo la pistola amico mio ah ma tu sei per qua stai allora bravo eh no voglio dire grazie proprio a chiudermi le porti in faccia ormai ti muore andiamo qua che c'è c'è niente non la tengo la radio madonna una batteria eh devi trovare e io no che cosa ci sto a fare giusto ragione dove sei ti ho perso ma sei scemo allora non mi voglio non suonare raga che dite ma aiuto dai mamma ciao bello ciao a me se non vuole tengo la cosa è giusto mamma perché me lo porti in me se non ho fatto nulla io ti sento ma devi ma devi dio devi morire male eh ma non mora da me dove sei amico mio allora Tommy Jarvis è beniamato giusto o sì Tommy Jarvis è beniamato è giusto lì la batteria ci dà quanti siamo un piano vai prendiamo sempre ci posso essere utile scusate amico mio la benzina che ho messo il coltellino mi serve a me vabbela a me oh e aspetta ah quindi ti proprio mi segui uh sì 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 niente allora non si sa concludere concludendo niente ci stiamo seguendo a vicenda cosa dobbiamo fare allora ci serve la batteria ok ci serve la batteria amico la batteria oh porca bu che abbastanza guardalo lo sapevo che stavo dicendo a me no bravo dai dai non faccio niente aspetta la stanna la puttata di la oddi ciao 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 no che che fai no 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 aiutami speriamo che sia domini javis dai dai se non mette noi eravamo rimasti devi morire devi morire lo dico io devi morire uccidilo dai no non volevo morire però niente ragazzi ci abbiamo fatto allora ragazzi il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ciao